...di sera, quindi gli abbiamo tolto un po' di tempo, non mi dilungherò molto, però voglio semplicemente rendere un onore a chi si è impegnato così tanto per avere questa manifestazione appunto, una manifestazione molto molto importante che sicuramente darà lustro al nostro paese e quindi volevo aprire io questa conferenza stampa perché la ritengo veramente molto importante per il nostro territorio, per la valorizzazione del nostro territorio e per quello che può portare anche per tutti i nostri cittadini...